Questo servizio è offerto da Nova Relax, ideale per il tuo riposo, corso della ceramica 8, marostica. Agriturismo La Moranda, in via Mercante 4, a San Martino di Lupari. Pontarollo Lubrificanti, per l'industria, l'autotrazione e l'agricoltura, a Cittadella, in via Perobon 8. Rebellato Vasco, piastrelle, caminetti e stufe, a Redobagno, idraulica, a Santa Maria di Cittadella. Tabaccheria Borgo Bassano, di Ruffin Loris, in via Borgo Bassano 51, a Cittadella. Grazie a tutti.